Architettura e sostenibilità non sono due elementi completamente indipendenti, al contrario, l'architettura e la sostenibilità da sempre sono andati insieme. Nello studio già di Architex, anche se il brief spesso in passato dimenticava gli aspetti della sostenibilità, abbiamo sempre impregato gli aspetti di costruzione off-site oppure di considerazione energetica e ventilazione naturale in quelle che sono state le nostre risposte per il design richiesto. Quindi riteniamo che comunque non c'è una opposizione, ma al contrario c'è un'identità tra quello che è il design e i risultato finale. L'off-site, come dicevo anche durante la presentazione, è un'opportunità per riuscire a rendere l'architettura sostenibile, di qualità e accorciare i tempi di costruzione, di conseguenza automaticamente ridurre anche i costi di costruzione. La maggior parte dei progetti che realizziamo oggi prendono, sposano la costruzione off-site e siamo molto contenti quando troviamo un cliente o un general contractor che siano già istruiti nel settore, che abbiano già abbracciato un sistema di costruzione contemporanea, digitale e soprattutto industrializzata off-site per garantire qualità e costi. a presto. a presto. a presto. a presto.